Un finanziamento da 2,4 miliardi di euro per il periodo che va dal 2021 al 2027. Si tratta del progetto Europa Creativa, il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi presentato all'Aurum di Pescara e organizzato dall'Ufficio Europa Area Metropolitana dei Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, in collaborazione con l'Associazione Abruzzo in Europa. Europa Creativa si propone di essere lo strumento di rilancio del settore audiovisivo e dell'industria culturale della regione. Si tratta di un programma gestito direttamente dalla Commissione Europea che si chiama Europa Creativa e che si divide in vari settori, quindi quello culturale, quello dei media, abbraccia un po' tutto il panorama culturale a livello di settori, tant'è che riguarda le imprese creative, le associazioni. È un programma che già in passato è stato utilizzato dagli operatori del nostro territorio e della nostra regione. Come dicevo, negli ultimi anni si è molto ampliato andando ad abbracciare non soltanto il settore della cultura, ma anche quello artistico, ma anche quello appunto dei media. E questo garantirebbe veramente una partenza per la nostra Film Commission davvero importante. Io voglio anche sottolineare che c'è un progetto che proprio il Desk Italia di Europa Creativa porta avanti con le Film Commission dell'Italia Meridionale, al quale io non appena sarà costituita operativamente la Film Commission Abruzzo, chiederò che l'Abruzzo possa far parte perché davvero è un progetto che forma i nostri produttori e le nostre produttrici in ambito audiovisivo e media e cinematografico a partecipare e a attingere a questi fondi. Grazie a tutti.